Buongiorno e bentrovati questa mattina sulla TV di Guendalina, ospite di questa giornata e il consigliere di opposizione Pietro Miraldi, parliamo appunto del consigliere che è stato anche ex assessore al bilancio del Comune di Vallo della Lucania. Buongiorno Pietro, è un piacere. Con lui toccheremo degli argomenti che sono anche molto roventi in alcuni casi, parliamo in particolare di questo ormai noto problema della piazza, quindi la viabilità in Piazza Vittoria Emanuele, ma toccheremo anche altri argomenti che sicuramente sono di interesse per la popolazione vallese non solo. Quindi partiamo direttamente Pietro con questo discorso della Piazza Vittoria Emanuele II, ricordiamolo che la piazza in questione, che è la centralissima piazza vallese dove appunto ha sede anche il municipio, è stata interessata da lavori di restyling che si sono conclusi qualche mese fa e che però ha portato ad un cambiamento che non è piaciuto e più e cioè la piazza prima di essere interessata dai lavori era pienamente fruibili ai veicoli e vigeva anche la possibilità di sostare all'interno della piazza. Successivamente ai lavori di restyling invece questa possibilità è stata negata. Si parla ora di una possibile mossa da parte dell'amministrazione comunale di riapertura ma solamente parziale, cioè parliamo di riapertura al traffico nei giorni feriali, chiusura il sabato e la domenica ma soprattutto non ci sarà la sosta cosa che scontenta in ogni caso i commercianti. Qual è effettivamente la situazione? Allora sì, effettivamente sembra che il 6 novembre c'è stata una delibera di giunta dove hanno deciso appunto quello che tu hai appena detto. Sembra perché sull'albo pretorio ancora non è stato pubblicato niente quindi può darsi pure che stiamo parlando solo di aria fritta. A sentire i commenti di cittadini e commercianti questa soluzione non accontenta né uni né gli altri. Io credo che accontenti soltanto il vice sindaco che forse è stato l'unico che ha sempre, penso per carpire, io uso spesso il termine carpire perché forse è un termine giusto, il voto anche dei commercianti ma penso che i commercianti a Marcella metteranno, penso che non lo potranno mai perché ci hanno capito di che passo è fatto cioè quello di fare solo inutili promesse. Non accontenta né i commercianti e né i cittadini perché un semplice passaggio delle auto senza la sosta non va bene al commerciante e non va bene nemmeno al cittadino che magari voleva una piazza chiusa. A me dispiace questo io sono stato sempre contro al lavoro della piazza non per il lavoro in sé per sé ma perché credo che spendere 5 milioni per niente alla fine perché non è che c'è stato uno stravolgimento perché andiamo a un ritorno quindi quello che si è fatto fino a 7-8 mesi fa andiamo a rifarlo adesso. Con la semplice cosa che si è solo data confusione un po' a tutti penso che anche gli stessi vigili urbani stanno prima montando il segnale e poi lo stanno rimontando perché siamo ancora a questo. Ancora non hanno le idee chiare. Ancora non hanno ancora le idee chiare perché adesso credo che erano stati montati alcuni segnali per la zona ZTL adesso questa zona ZTL sarà soltanto per il sabato e la domenica quindi andremo a variare addirittura anche il semplice segnale. Io credo che se un'amministrazione quindi anche il sindaco magari anche l'assessore Mauro D'Amato e qualcun altro erano e sono convinti che è giusto mantenere il traffico chiuso allora portate avanti questa vostra idea perché farsi non so certamente magari può darsi che anche loro hanno visto che una piazza chiusa al traffico è una bella cosa quando ci sono belle giornate magari quando c'è un giorno festivo non è utile a nessuno quando c'è nel quotidiano magari c'è la mattina eppure addirittura quando forse poi è un maltempo. Quindi questa qua è una cosa che credo non accontenta né agli uni né agli altri. Su 9.000 abitanti che siamo a Vallo penso che accontenta solo Marcella Metrano. Ho capito e per quale motivo a tuo avviso il sindaco e l'assessore D'Amato che erano insomma quelli che sponsorizzavano la chiusura in maniera illimitata della piazza per quale motivo insomma tornano sui propri passi cercando di fare insomma di trovare una via di mezzo? Ma io credo questo ecco è il mio pensiero perché stando anche all'interno in precedenza ho visto che questa è un'amministrazione che si sta basando solo sul cirricatto che c'è che l'assessore e vice sindaco Marcello Metrano fa puntualmente e quotidianamente. Ora Cottogna Loia prima l'ha fatto con Luigi Cobellis cioè andiamo sempre avanti in questo modo. Non penso che C'è che Vallo merita questo perché cioè perché non si arriva a niente alla fine. Ho capito e alla fine insomma si parla però di possibili insomma problemi anche per quanto riguarda la Giunta in quanto come dicevamo Pocanzi D'Amato in particolare voleva la piazza chiusa adesso si è dovuto adeguare e si vocifera addirittura di dimissioni a te risulta qualcosa in merito oppure insomma sono solo voci di popolo? No penso sono solo voci certamente Mauro D'Amato pubblicamente ha detto che lui se si fosse raggiunta un'intesa sulla sull'apertura del traffico cioè lui non era d'accordo e quindi forse verrebbe rassiato le dimissioni ma a questo non credo. Quindi si procede così insomma e vediamo fondamentalmente se questa delibera uscirà fuori e se effettivamente questa apertura insomma placherà un po' gli animi dei commercianti che lo ricordiamo continuano a manifestare il loro dissenso in merito a questa situazione perché pare che dal passato e quindi quando la piazza era aperta e quindi pienamente fruibile con la sosta ad oggi ci sia stato un abbattimento delle entrate pari addirittura al 50%. Lo ricordiamo anche, sono stato io personalmente a riportarla sul quotidiano La Città l'altro giorno di una lettera di Caetano Passarelli che è insomma il proprietario di diversi negozi del centro di Vallo che insomma non è stato proprio gentile nei confronti di Tony Aloia del sindaco di Vallo al quale insomma gli diceva addirittura che proprio per questo cambiamento all'interno della piazza si potrebbe addirittura passeggiare nudi senza incorrere nei rigori di legge cito testualmente e cioè praticamente proprio perché non c'è nessuno allora per questo motivo insomma non si avrebbero problemi neppure in quel caso e poi lasciamo anche insomma naturalmente a lui quindi come discorso soggettivo il fatto che insomma critica anche i lavori stessi quindi il materiale utilizzato per la pavimentazione così come l'illuminazione come i vasi come praticamente le sedute un po' tutto ma in generale quindi tocca un po' tutti i punti ma poi va nel particolare dicendo che effettivamente alcuni commercianti hanno chiesto di dimezzare la quota di fitto e in alcuni casi hanno chiesto addirittura di rescindere dal contratto di fitto perché pare che alcuni abbiano addirittura l'intenzione di chiudere baracca perché le entrate sono troppo esigue per insomma avere una un per poter avere un proseguo alla fine dei conti insomma tu che cosa ne pensi di questa di questa di questo cittadino proprietario di immobili che si sente cioè che appunto ha un danno comunque notevole se effettivamente questi commercianti dovessero pensare di trasferirsi altrove no allora io ci ho letto questa letta perché l'ha fatta per anche a me passarelli e meno complimento è per il contenuto e per lo per lo spirito sicuramente lui ha d'accordo molto originale molto originale sì lui non c'è non è non è non è primo a queste mi ricordo effettivamente ha ragione su questo perché effettivamente ci sono molti commercianti è chi paga il fitto è o anche il proprietario che ci è penalizzato dal fatto che che oggi in piazza c'è meno gente e quindi ci sono meno consumi io però penso anche questo che anche aprire il traffico quindi certamente sarà un vantaggio per i commercianti però è importante che che chi spende oggi a qualche a qualche lira in tasca in più e questo magari era era possibile diminuendo magari la c'è la tari o anche come ho sostenuto anche in passato oppure anche la tasi perché se il cittadino oggi paga meno spazzatura oppure paga meno tasi magari a qualche euro in più in tasca e quindi può anche spenderla e quindi c'è si crea un vortice che certamente magari va a vantaggio e del è del commerciante del il proprietario del c'è dell'immobile io quando vedo che noi abbiamo una una tasi a ballo un piano finanziario tasi che si arriva per il secondo anno consecutivo a 700 mila euro senza avere alcun servizio allora se invece di 700 scendeva al 50 per cento in meno un 30 per cento in meno il cittadino aveva più soldi in tasca con con la tariffa con la tari è la stessissima cosa ripeto noi abbiamo un piano finanziario a ballo che si paga un milione 800 mila euro circa per avere un servizio che non si raggiunge nemmeno il 50 per cento di raccolta differenziata e quindi significa che tutti quanti corriamo poi a scadenza una pressa all'altro cioè ogni 30 giorni abbiamo una scadenza per il pagamento tari ora c'è il 31 ottobre 30 novembre ho fatto spostare l'ultima rata che sarebbe era del 31 12 invece scadrà il 30 gennaio quindi il cittadino oggi ha pochi soldi in tasca insieme a questo si mette il fatto che c'è un momento particolare che è in genere quello della crisi che a livello nazionale se non mondiale e poi ciliegina sulla torta è stata anche certamente anche la chiusura del c'è del traffico quindi sono ci sono concorde sul fatto del ci lavori se sono bello brutte le banchine bello brutta la c'è la pavimentazione è molto soggettivo quello è molto soggettivo posso dire che tra le altre cose che ha indicato passarelli sulla lettera è che lui critica molto anche anche la strada di rabbarama sicuramente io io non avrei speso 125 mila euro per per una statua che che eccetto fosse il primo giorno che uno ce la vede come una novità ma poi non è una cosa cioè non è che viene il turista c'è a vedere una una statua così che poi forse era anche sbagliato anche il bando perché la anche se uno presentava semplicemente questa pena che ha in mano voleva comunque 125 mila euro quindi non era una cosa con 125 mila euro si potevano fare tantissime cose forse anche la collocazione anche la collocazione è stata un po relegata insomma nascosta si è stata messa in un angolo esatto forse è stata messa in un angolo per il prezzo insomma che è stato speso il prezzo è stato speso avrebbe bisogno di essere un po più centrale può darsi il fatto grave che anche se uno volesse fare in futuro come il sindaco di c'è di venezia che vuole vendere le opere d'arti era barama non credo che arriverebbero a 20 30 mila euro come valore quindi abbiamo avuto già una perdita già già in partenza questa quota di 125 non di 10 mila euro perché la loro hanno preso il fatto che quanto c'è un sul lavoro pubblico il 2 per cento dell'importo dei cioè del lavoro deve essere destinato a opere d'arti però non valeva per il lavoro piazza perché io ultimamente sono stato a parlare con il rupp c'è morizzo de cesare e chiesi informazioni su questo e dissi perché allora c'è lavoro del parcheggio stella del mattino là non c'è l'opera d'arte quindi vale soltanto per quando c'è un edificio pubblico tipo come è stato fatto con il tribunale all'epoca un tribunale è edificio pubblico è stata è stata fatta una spesa in mercenduale è stata fatta un'opera d'arte che poi quella scritta che sta davanti al tribunale ma non era il caso della c'è della piazza è stata soltanto una scelta politica è bassa diciamo ho capito va bene insomma vorrei toccare anche con con te visto che appunto ne abbiamo l'occasione vorrei fare un passo indietro nel senso tu sei stato componente dell'amministrazione aloia per insomma alcuni mesi poi magari ci direi tu insomma per la precisione quanto quanto tempo sei stato assessore della della giunta aloia poi in un tratto per una mancata convergenza di opinioni oppure insomma non so sicuramente ci direi tu meglio le strade si sono divise e l'assessore al bilancio è divenuto consigliere di minoranza come è maturata insomma questa questa divergenza di opinioni che poi ha portato aloia a metterti alla porta e quindi a prendere al tuo posto l'assessore maiese sebbene con deleghe diverse allora sì io sono stato assessore dal momento in cui ci siamo insediati quindi nel giugno del 2011 fino a gennaio del 2014 quindi due anni e mezzo circa c'erano alcune alcune divergenze perché io infatti ho scritto un posto su facebook cioè su facebook settimana scorsa quando il sindaco non ha voluto convocare ancora il consiglio comunale sì perché mi sono candidato perché credo che ogni cittadino deve dare un contributo se se può al proprio paese alla propria città ma deve essere sempre un contributo leale e trasparente quello che noi abbiamo predicato sul palco però spessissime volte cioè quando si faceva gruppo questa trasparenza e questa realtà veniva sempre meno e se qualche volta o anche spesso io chiedevo qualche qualche lume in merito sembrava quasi che davo fastidio e quindi non dovevo continuare in modo particolare quando ho visto che c'era una spesa maggiore come ho detto prima per quanto riguarda il piano finanziario della c'è della tassu e allora quando io chiedevo dico ma se possiamo diminuire il piano finanziario e quindi diamo meno carico al cittadino penso che sia una c'è una cosa buona però su questo si significava giustamente per loro dare dare svantaggio a marcella metrano quindi c'erano anche delle incompatibilità c'è all'interno della del il gruppo loro hanno visto questa mia diffidenza cioè secondo loro come come un peso la stessa cosa è stato pure per i lavori alla stata garibaldi allora chi è effettuato ci lavori alla stata garibaldi doveva deve ancora dare una cifra intorno ai 124 mila euro se mi ricordo bene al comune di vallo questa cifra poi è andata via cioè sempre scendendo fino ad arrivare ai circa 65 70 mila che ancora oggi dopo circa due anni e mezzo il costruttore ancora non ha versato una un euro al comune questo deve dare questa cifra deve dare questa cifra perché la lui chi ha c'è chi si è giudicato il lavoro a stata garibaldi a spese sue faceva il lavoro della c'è della piazzetta dove dove c'è pure quella casa del c'è dell'acqua e i quattro locali che che sono usciti sono di proprietà del il costruttore però a condizione che poi dava una c'è una somma era una sorta di c'è di permuta al comune è vero questi quattro locali non sono stati ancora né venduti e né fittati penso che anche per un mercato che forse un po troppo alto sotto questo aspetto resta il fatto però che ancora lui non ha versato alcuna somma al comune perché questa cifra da 124 scesa 60 perché all'epoca il sindaco vuole lui personalmente scegliere il tipo di mattonelli il tipo di panchina e il tipo di ringhiera io dissi se il progetto è stato fatto a monte da un architetto per quale motivo dobbiamo e noi l'abbiamo già approvato in giunta per quale motivo dobbiamo adesso andare a variare questa cil progetto e perdere addirittura circa 50 mila euro quindi all'epoca fu la prima e unica volta che ho votato noi in giunta e loro l'hanno vista come quasi una c'è una mancanza di fiducia una diffidenza quindi da lì poi è partita lì poi ogni ogni cosa che sembrava esatto sembrava che io non ero un buon assessore al bilancio che dovevo chiedere l'uomo a qualcuno più esperto di me quando io poi non ho mai messo nome voce in nessun altro assessorato cioè quindi andavi bene fino a quel momento andavo bene fino a quello però io sono andato bene perché forse sono stato abbastanza determinante per vincere le elezioni a me quando uno mi dice consigliere di opposizione o di minoranza non c'è a me non piace il termine questo qua non non piace perché facevo parte della maggioranza sono uscito dalla maggioranza ma non sono minoranza perché non è che mi vedo nella indipendente sono indipendente che poi insieme alla minoranza attuale stiamo stiamo facendo insieme opposizione e per avere magari qualche numero in più perché anche per convocare un consiglio c'è bisogna essere almeno in quattro anche se il sindaco ultimamente nonostante l'avessimo convocato in cinque però sta andando contro legge quindi non ha nemmeno convocato il consiglio perché è vero che ricordiamo il consiglio appunto è sempre sul tema della piazza quindi della viabilità che ha richiesto anche l'intervento del prefetto perché appunto non sono una volta trascorsi 20 giorni di legge non avendo avuto seguito alla richiesta della insomma di questo consiglio straordinario sul tema viabilità in piazza il capogruppo romanirlo ha fatto una segnalazione al prefetto chiedendo appunto di intervenire sulla questione no questo è vero perché alla fine è vero che il c'è la giunta sembra che ci ha deciso per apertura del traffico però noi abbiamo chiesto una convocazione di un consiglio quindi è giusto andare in consiglio e parlare in consiglio perché c'è un put ancora in vigore che è del 2003 quindi bisogna andare in consiglio per variare il put e poi poi la vogliono aprire la vogliono chiudere però c'è giusto andare in consiglio quindi questo questo cambiamento che avrebbero fatto in giunta qualora fosse reso noto comunque ci sarebbe poi da cambiare questo put certamente c'è da cambiare il put e bisogna cambiarlo in consiglio perché in consiglio è stato è stato variato nel c'è nel 2003 e bisogna variarlo adesso in consiglio certo ho capito adesso insomma cambiamo un argomento tocchiamo insomma qualche altro punto diciamo dolente della situazione attuale che vive vallo e in particolare mi riferisco al polo tecnologico un polo che insomma è nato per per avere tra le altre cose un punto di riferimento anche per la formazione si narrava che dovesse includere anche dei corsi universitari fatti via via internet però ad oggi pare che insomma tutto questo dal momento della sua inaugurazione non si è verificato e ad oggi questo polo tecnologico serve solamente come aula consigliare qual è la situazione e qual è effettivamente l'investimento che è stato fatto per dedicare questo polo tecnologico alla formazione non solo allora è la è stata è stato fatto questo c'erano alcuni fondi regionali per per acquistare arredi per un polo tecnologico il sindaco arbitrariamente secondo me perché tante cose vengono fatte come come fosse casa sua e non è così ha voluto arredare l'aula consigliare quindi oggi che cosa non abbiamo l'aula consigliare perché noi non possiamo chiamarla la consigliare se non si perde il contributo non abbiamo un polo tecnologico perché alla fine funge da aula consigliare però è di questi giorni ho letto sull'albo pretorio l'altro giorno che c'è una c'è una sorta di intesa con la università telematica Pegaso per effettuare alcuni corsi di università all'interno all'interno appunto della all'interno dell'aula che dovevano partire però già da tempo dovevano partire già da tempo però io ce l'hanno pubblicato in settimana scorso oppure questa settimana quindi c'è una cosa solo di oggi sembra quasi per tappare un buco resta il fatto che l'impresa che ha che ha fornito gli arredi ancora non è stata pagata e ormai sono passati già diversi mesi la spesa quanto ammonta diciamo questo qua non lo ricordo onestamente siamo intorno forse tutto intorno ai 300 mila euro credo però non c'è onestamente non ricordo effettivamente il dato preciso il dato preciso va bene per quanto riguarda invece la situazione dell'auditorio un po' molto cioè un po' gli somiglia cioè qual è la situazione effettivamente per questo per quest'altra struttura che sembra sia nata per per scopi diversi da quelli a cui è stata effettivamente destinata allora l'auditorium è stato inaugurato in fretta e furia per le elezioni regionali ancora non era collaudato come ancora credo oggi non è ancora fornito di dei pareri obbligatori penso che non li abbia tutti in consiglio un paio d'anni fa sulla proposta del consigliere maesa all'epoca fu ci fu deliberato che il che che questa struttura dove essere gestita da una da una fondazione invece adesso senza collaudi senza dare gestione senza ci aver dato gestione c'è nessuno ogni tanto esce esce un evento ma da chi è gestito attualmente io ho scritto una pec sabato al responsabile affari generali del cil comune per per chiedere proprio questo se è stato dato in gestione a chi è stato in gestione a che prezzo e perché non si è preso in considerazione quando c'è quando deciso in consiglio proprio perché doveva essere c'è dato a una fondazione ancora non ho avuto risposta quindi io so che non è stato dato in gestione ancora a nessuno però vedo che stanno facendo soltanto un doppione c'è di quello che noi abbiamo già vallo noi abbiamo grazie al vescovo favale prima e al vescovo c'è minero oggi abbiamo già una struttura che sta funzionando bene del teatro la provvidenza e quindi anche all'auditorio delle opere teatrali fondamentale alla fine si fanno anche qui delle opere io io penso che un auditorium era solo per ascoltare musica credo che poi è stato variato nel 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 corso degli anni il progetto per fare anche 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 teatro non penso che sia stata c'è una buona idea ormai il teatro a ballo l'abbiamo a sapri c'è ad agropoli c'è a eboli c'è quindi fare c'è fare concorrenza cioè non serve a niente io mi ricordo quando sempre sempre tra le altre cose che che io mi c'è stavo ero in in contraddizione cioè diciamo era proprio quella del il conservatorio perché noi quando siamo arrivati in amministrazione c'era una cooperativa che aveva in gestione il parco della musica che aveva una convenzione con il conservatorio di salerno per dei corsi pre accademici invece l'amministrazione volle volle fare una convenzione con il conservatorio di avellino si sborsando una somma annua di circa 70 mila euro che è una somma che da la banca del cilento però sono soldi che vanno agli insegnanti di avellino e quindi escono fuori da vallo quindi non lavorano alcun maestro della zona perché lavorano questi di fuori all'epoca disse al sindaco dico sindaco perché non manteniamo anche questo di salerno e lui mi disse ma mica possiamo avere due conservatori in città dico beh ma se funzionano ne possiamo avere anche dieci stesso discorso non so perché non vale con il teatro adesso abbiamo un teatro adesso ne abbiamo anche un altro mi ricordo che per questo discorso del conservatorio poi si andò anche per vie legali se non erro giusto si andò pure per vie legali che poi ha avuto ragione ha avuto ragione perché loro avevano ragione effettivamente sì e forse però ce lo stanno gestendo ancora loro si va bene e per quanto riguarda invece un altro insomma argomento importante che interessa la cittadina vallese e quella dell'ospedale è ormai con la chiusura dell'ospedale di agropoli l'ospedale di vallo è divenuto sempre più centro dove convogliano ormai utenti da ogni parte del cilento lo ricordiamo che insomma tra agropoli e vallo appunto ma anche capaccio quindi zone anche molto popolose sono prive di una struttura ospedaliere quindi vallo diventa sempre più il centro unico di riferimento per quanto riguarda i pazienti del del cilento però la situazione ormai sulle cronache giornaliere pressoché giornaliere ci sono notizie che vedono il l'ospedale di vallo sempre più con una questione di di carenza di personale numerosi sono ormai le situazioni che vedono medici ma anche infermieri costretti a fare turni su turni di insomma di straordinario per tappare e per per tappare insomma i buchi anche dovuti alla alle mancate assunzioni che ci sono state insomma che non ci sono state negli anni e quindi per questo motivo si parla sempre di un ospedale in affanno qual è la situazione c'è stato anche insomma non molto tempo fa si inarrò di circa 12 assunzioni se non erro erano 7 cardiologi e 5 anestesisti che insomma dovevano arrivare all'ospedale di vallo ma ad oggi non se ne ha notizia qual è effettivamente la situazione del nosocomio vallese allora io a quanto sento perché non sono tecnico in merito quindi non voglio sbagliare però a quanto sento parlando pure con alcuni amici medici o infermieri che c'è che stanno nella struttura certamente vallo oggi sta perdendo quindi il nostro ospedale sta perdendo molto non vedo alcun politico che c'è che si dà da fare noi abbiamo un sindaco medico che è dipendente anche dell'ospedale sul palco quando ci siamo candidati era a favorissimo proprio della della nostra struttura pubblica ma ora sembra invece che tutto tace come tutto funzioni se vallo negli anni è stato è stato un centro importante è stato anche soprattutto grazie all'ospedale quindi noi noi non possiamo permetterci c'è di c'è di perdere l'ospedale perché andremo a perdere anche c'è anche centralità e questo qua non ce lo possiamo permettere ieri mattina incontrandoci un medico cioè mi disse che c'è addirittura c'è l'ufficio commercio di vallo che che sta dando autorizzazioni per apertura di di c'è di centri per radioterapia oppure per oppure addirittura per posti letto me sembrano cose effettivamente che private private certamente private per fare questo è possibile ma c'è bisogno anche di una commissione regionale non è che uno ci si alza la mattina e c'è da queste autorizzazioni e questo significa c'è alla fine andare sempre indietro e non ce lo possiamo permettere quindi il mio appello che che posso magari ci approfitto è questo di invitare di nuovo il sindaco a tornare il sindaco che era sul palco di le ali per vallo di 4 5 4 5 anni fa quando disse pubblicamente che lui si batteva sempre per la per l'ospedale pubblico spero che spero che lo sta facendo però sì se uno fa qualcosa e c'è buono pure che i cittadini ne vengono conoscenze devo dire la verità io insomma lungo diciamo la mia esperienza di giornalista ho avuto qualche sollecito da parte del sindaco aloia in passato su insomma l'argomento ospedale tra i quali anche la problematica relativa ai macchinari che sono ormai obsoleti ma anche sulla chiusura insomma minacciata in più occasioni di vari reparti quindi di sollecitare un po gli organi competenti però poi ad oggi insomma ultimamente queste questi solleciti non ci sono più non so onestamente se poi le situazioni si siano risolte oppure è concentrato magari su altri argomenti e quindi sta tralasciando un po quello che che forse insomma l'argomento a cui tiene a cuore nella maggior parte della popolazione non solo vallese ma anche di tutto il comprensorio cilentano in ogni caso mi ricordo anche in particolare però non fu insomma da parte di aloia ma ultimamente qualche sindacato ha segnalato anche la ormai cronica chiusura del del reparto di psichiatria che lo ricordiamo è stato chiuso a seguito della della triste vicenda del insomma del maestro Mastro Giovanni che è balzata poi sulla cronaca dei quotidiani anche nazionali che appunto in merito ad una situazione che da tso si è trasformata a tutt'altro ad oggi quindi questo reparto resta chiuso ci sono delle insomma possibilità di riapertura oppure insomma da quanto tu ne sappia ci sono spiragli in merito a questo reparto no questo qua non sono a conoscenza ti devo dare atto che effettivamente all'epoca il sindaco oppure per quanto riguarda il cup che era anche c'è a rischio c'è a rischio spostamento verso no c'era si interessò molto questo sì per farlo rimanere a ballo tant'è che ci abbiamo diminuito è stato quasi un toet d'asse diciamo sì è stato c'è diminuito il fitto che l'asle paga al comune per la struttura in cambio che il coup ci restasse a ballo però sì è vero prima il sindaco era molto aperto e propenso a questo spesso ci sollecitava scriveva questo posso farmi altro ultimamente può darsi che è cambiato qualcosa e quindi i pensieri sono altri probabile che si pensi già alle prossime elezioni probabile non sento alcune voci però ecco sono voci non so se se poi è tutto realtà già cominciano a delinearsi insomma le possibili insomma candidature non lo so questa qua è una domanda che che spesso spesso c'è anche c'è anche tra i cittadini non lo so io penso che l'attuale maggioranza certamente si si ricanditerà penso anche in c'è anche con il numero che c'è nel senso quasi tutti penso penso che si ricanditeranno c'è qualche voce che dice che ametrano e maese non sono più vicini all'amministrazione ma ma questo non ci credo ecco c'è anche perché se non sono più più tanto insieme all'amministrazione però votano tutto a favore quindi però anche a me è arrivata la voce che potrebbe insomma essere il possibile candidato ametrano candidato sindaco non non lo so non c'è ancora insomma fervore in merito a questo argomento ma ancora è presto penso no presto no perché alla fine c'è se si vota forse il 12 giugno credo che c'è l'election day quindi sono sei mesi il tempo vuole quindi anche per organizzarsi non lo so sento alcune voci magari potrebbe essere ma c'è la metà nel candidato però non penso che non da quando da quando insomma si apprende però ad oggi non so se sia vero onestamente però si parla già che insomma metrano è il sindaco effettivo di vallo e aloia è quello di facciata ti risulta questo insomma anche dalla tua esperienza amministrativa no bene non ho scritto c'è un manifesto subito appena mi furono tolte le deleghe e scrissi questo cioè che nel senso che che io mi ero accorto che effettivamente il sindaco era marcella metrano e non togna loia ma è così perché se uno c'è ogni decisione deve essere presa per forza perché c'è lui a volerla e quindi e quindi è così basta vedere gli incarichi agli avvocati chi sono gli avvocati basta vedere chi personale all'interno del comune sta facendo carriera e basta vedere non so ogni piccola iniziativa se è uno c'è a deciderlo oppure no quindi questo è tutto cioè c'è molto semplice c'è ogni cittadino ha conoscenza quindi giusto insomma un ultimo argomento che però appunto è di interesse per quanto riguarda la popolazione e cioè a che punto siamo per quanto riguarda il PUC a ballo cioè quali sono anche le le situazioni che sono che sono ormai incluse in questa bozza di PUC che se non erro è stata insomma formulata e anche presentata un po' di tempo fa dall'amministrazione aloia ad oggi da quanto ti risulta a che punto siamo con l'approvazione del del piano urbanistico comunale allora il PUC deve essere solo approvato in consiglio comunale basta a noi a noi consigliere è stato è stato notificato il 6 o 7 ottobre mi ricordo quindi ci sono 30 giorni utili per per averlo in visione dopo di che ogni giorno è possibile convocare il consiglio per approvarlo quindi per fine anno si potrebbe ma certamente io so che ci sono però circa 80 85 osservazioni fatte dai cittadini e per legge bisogna portarle in consiglio e c'è votarle singolarmente so però che l'amministrazione non vuole fare questo e quindi vuole che si approvi in cim blocco il il PUC non credo sia giusto perché se se dei cittadini hanno fatto delle osservazioni penso che sia giusto anche c'è anche vedere loro intendono una c'è una voce che dice tenuto conto delle osservazioni noi approviamo o non approviamo il PUC e di queste osservazioni insomma più o meno l'argomento o comunque la dove dove spingono insomma queste osservazioni qualcosa che insomma insomma le persone vorrebbero diversamente come insomma vorrebbe invece l'amministrazione no per lo più sono tutte quando osservazioni strettamente personali alla fine sono privatistiche eccetto forse qualcuno che che ci hanno chiesto il traffico a vallo magari lavare queste variazioni però oppure le scuole possibili in un altro modo però sono tutte quante abbastanza personale ecco quindi ma tu già hai dato insomma un'occhiata a questo PUC insomma quali aspetti vedi negativi e quali positivi no io ho dato un'occhiata anche se poi non sono tecnico e quindi devo appoggiarmi per forza qualcuno che è competente in materia una cosa che a me non piaceva quando ero in amministrazione e non piace oggi che c'è che si lavora solo su comparti nel senso se un cittadino è proprietario di un pezzo di terra dove è possibile costruire questo qua non può farlo più e quindi sono state individuate alcuni lotti di c'è di terreno dove è possibile fare delle costruzioni quindi il cittadino ha che ha un terreno non so a zona san crescenzo se però si è deciso che il comparto è a pattano quindi lui deve il fabbricato suo c'è sarà a pattano in cambio del terreno che lui ha a san crescenzo è solo questo che può essere una sorta di compensazione una sorta di compensazione quindi può essere questo c'è un un volano della c'è dell'economia come dice il sindaco non sono non sono tanto d'accordo perché oggi non c'è più chi c'è chi può acquistare casa perché perché soldi ce ne girano pochi forse le banche ultimamente ci stanno c'è muovendo a dare forse un poco più semplicemente qualche qualche prestito qualche mutuo quindi certamente se si approva il piano il piano regolatore magari può essere può essere un bene non credo però che sia proprio una soluzione ma è un piano regolatore insomma che va a sconvolgere un po l'assetto attuale oppure insomma molto sobrio come no nel progetto a mio avviso non c'è non è che va a sconvolgere un bel niente io penso che c'è giusto che i lavori partono di nuovo però penso che sia più giusto ristrutturare quello che oggi abbiamo perché fare fare nuovi cementi in più nuove abitazioni in più anche perché a ballo eravamo 8 mila 40 anni fa siamo 8 mila oggi quindi stiamo anche un poco c'è non c'è non è mai non è stata fatta mai una c'è una politica per far venire i cittadini del il cilento a ballo ma anzi forse stanno scappando prima c'era il sindaco che abbiamo parlato con alcuni sindaco di stella lui si ha portato un esempio lambande c'è se uno deve acquistare un immobile tra vallo e agropoli penso che per lui è molto più semplice acquistarlo ad agropoli e non a ballo ecco se non riusciamo a recuperare un'altra volta questa centralità che che si aveva 20 30 anni fa purtroppo non andiamo da nessuna parte e dell'ultima insomma dei giorni scorsi anche la notizia che potrebbe essere delocalizzata anche la caserma della polstrada so che c'è stato un intervento da parte dell'amministrazione per cercare insomma di mantenere la situazione così come attualmente e quindi se non erro c'è stata una proposta che ha visto l'ente insomma vallese di destinare un un immobile che però attualmente è occupato insomma da dal parco sì e beh questa è una cosa di almeno due anni fa perché c'era io in amministrazione e insieme all'engine rossi che all'epoca era il responsabile del patrimonio ci siamo mossi proprio perché io ero stato sollecitato dal comandante della cd la polstrada sì perché loro dove dove sono ubicati adesso non c'è non hanno i spazi parcheggi eccetera quindi so che il che quella struttura dove oggi c'è il parco che presso le scuole martiri martiri mattia e di proprietà del comune di vallo novi e cana longa mi interessa io all'epoca per far sì che che la c'è che la polizia si si spostasse la mi ricordo che il comune impegnò una cifra di circa 7 8 mila euro perché bisognava mettere a posto alcune cose tra cui con l'audio prove tecniche eccetera però poi dopo poi sono uscito dalla cioè l'amministrazione non so poi se è stata portata avanti la cosa so che forse le il parco ha qualche difficoltà a far spostare e quelli della guardia forestale alla zona lì e quindi so che c'è questa cosa oppure che c'è il comune di ceraso credo che che sta spingendo per per avere una polizia esatto sì ma c'era la cera va bene insomma salutiamo il il consigliere a questo punto indipendente pietro minaldi della lo ricordiamo della del comune di vallo lo ringraziamo naturalmente gli diamo appuntamento alla prossima insomma qualora ci fossero delle novità specie su questa questione della piazza così tanto cara insomma alla popolazione dei commercianti ma sicuramente anche se ci fossero delle novità di sorta anche per quanto riguarda la questione ormai prossima delle elezioni amministrative anzi visto che sono in chiusura tu avrai insomma posto nelle prossime liste per quanto riguarda insomma le elezioni amministrative insomma quindi avrai l'intenzione di ricandidarti alla insomma per la prossima competizione elettorale allora in un momento io lo cioè non lo nego perché alla fine a me piace dare un contributo sì c'è la mia città come ho fatto già quattro cinque anni fa quando mi sono candidato con la lista leali per vallo e certamente c'è vorrei ridarlo quindi c'è c'è non nego questo se se ci sono le condizioni come ho già detto anche in passato ed è possibile trovare cittadini che sono disponibili anzi do ci faccio anche un invito ai cittadini vallesi perché il vallese è un poco piccolo sotto questo aspetto magari vuole ci vuole qualcuno che lo prende lo porta per mano quindi se c'è qualcuno che effettivamente vuole dare un contributo a ballo ci si faccia avanti perché sennò abbiamo sempre le stesse persone che sono 20 anni che stanno ad amministrare poi non siamo contenti quindi dobbiamo essere noi primi a farci avanti a dare e dare un contributo quindi se se c'è questa possibilità certamente non ti tiri indietro non mi tiro indietro va bene allora insomma rinnoviamo nuovamente i saluti al consigliere miraldi grazie a voi grazie dell'invito di niente è stato un piacere e per quanto riguarda invece i telespettatori do appuntamento alla prossima al prossimo special buona giornata e mi raccomando insomma rimanete sulla tv di guendalina arrivederci